Beh, vabbè, come specialità locali? Cosa devo dire? Tra il radio, teatro olimpico. Allora, il teatro olimpico? Vabbè, ma ci sono state al teatro olimpico, perché mi ha invitato la mia amica Lina Sastri quando fece la Medea, mi ha invitato doppia emozione, perché vedi già un bello spettacolo, poi lo vedi in questa scenografia meravigliosa che ti dà l'idea che le cose avvengano sulla piazza, non una città, come è nato il teatro, il teatro è nato così, il teatro olimpico è nato in mezzo alla strada, la gente si parla in mezzo alla strada, cominciava a fare spettacolo, la gente si radunava attorno, e io trovo che Palladio è stato geniale nel fare questa scenografia linea che riproduce comunque la piazza di una città, perché ti sembra che tutto avvenga proprio all'interno di una piazza. Poi, vabbè, oggi abbiamo fatto una... la città è bella, non è che lo dico per ruffianeria, la città è bella, con tutte queste luci rosse oggi... cercavo neanche un'olgettina, neanche a pagare... no, bello, queste luci rosse, molto belle, baccanala vicentina... no, ma poi vedo anche degli amici con cui abbiamo... ci siamo conosciuti durante la mia attività, durante la mia campagna, anche durante la mia attività parlamentare, e devo dire, sinceramente, oggi ritornando qui, ho sentito veramente un grande affetto, e anche da parte vostra, proprio la gioia di avermi qui. quindi, quindi, magari, non mi trovo pure il fidanzato, così ho un motivo in più per venire, oltre al baccalala vicentino... grazie a tutti, grazie a tutti...